Ci do, ci do. Cu da, cu da. Questo. Prendiamo in Edinburgh qualche secondo. In questo modo, le mani sotto le spalle, le gambe leggermente rimanicate, non solo sull'anzo all'angolare, semplicemente, apro, chiudo, apro, chiudo, inspiro, espiro, inspiro, inspiro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, solevo la mano a sinistra, tengo la posizione, con la mano stessa a sinistra, prendo la pallina e proviamo a fare questo ruolo, chiudo, apro, chiudo, apro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggio, andiamo dalla parte opposta, vado e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, ok, appoggio, allungo, gluteo sul pallone, rilasso, rispiro bene, rilasso, rispiro bene, rilasso, rispiro, mani sotto le spalle, un arco di modo all'anno a sinistra, poteo, allora flat leggerissimamente, 1, su, 2, e andiamo, porto il peso sulle braccia, andiamo verso 1, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 6, 5 4 5